Ok, ciao a tutti, volevo dedicare questa vittoria o questa perdita, non so se ho vinto o se ho perso, arrivo ultimo, a chi mi ama e a chi mi odia, al mio personal trainer, nonché maestro di vita e di corsa, Michele Zanetti, che ormai è il mio carnefice, è l'uomo dei miei incubi, una volta avevo paura solo di mia moglie, adesso ho paura solo di Michele Zanetti. Grazie Michele, mi spiace se ti ho deluso, il tempo è stato buono, basta, grazie, ci vediamo a Trieste.